Allora, allora, scusate, e siamo tornati live, siamo live, siamo live, benvenuti tutti in questa una puntata di Pengrimini, io sono Palla e siamo tornati. Dopo una breve, ma neanche troppo, si prende una pausa, però non si ricorda più che deve andare live. Diamo live, andiamo live, 3, 2, 1, e siamo tornati live, siamo live, siamo live, benvenuti tutti in questa una puntata di Pengrimini, io sono Palla e siamo tornati. dopo una breve ma neanche troppo pausa estiva funziona adesso dovrebbe funzionare quindi se avete sentito ciao Andrea se avete sentito qualcosa di strano adesso dovrebbe essere passato e siamo tornati live siamo carichi siamo io sono agosto è un mese che mi gasa particolarmente stavo dicendo adesso su youtube perché siamo anche live su youtube dove vi ricordo che iscrivervi al nostro canale è assolutamente gratuito e che trovate anche un po' di extra della puntata perché io mi collego di solito dieci minuti prima su youtube e poi resto anche un 5-10 minuti dopo stavo dicendo che questo mese l'ho l'ho trascorso offline mi sono collegato pochissimo sui social ho fatto proprio ho fatto detox completo anche di crimini non ho letto nulla non ho pensato a nulla non ho avevo delle cose da fare non le ho fatte mi sono proprio completamente alienato da tutto quello che era podcast crimini e tutto quanto sono tornato e mi sono ordinato subito tre libri il delitto di chiavari di igor padrono quello su una daccella la ragazza del bosco dell'abruzzone su serena mollicone e poi c'è un altro libro anche vi ricordo faccio pubblicità sperando che me lo mandino ma non me lo manderanno no adesso fate gli scherzi vi ricordo che l'11 agosto uscirà il libro di igor padrono su via poma anatomia di un delitto esce l'11 agosto poi cercate igor padrono anatomia di un delitto vi esce e io ovviamente ho tolto l'ordine su amazon il preordine perché cercherò di comprarlo proprio in giornata in qualche libreria spero che a milano almeno una libreria ce l'abbia e lo leggerò subito vi farò prima possibile una puntata su tutti questi libri vorrei fare una puntata dedicata è una nuova mezza serie che mi sta scimmiando ovviamente non sarà una serie con una cadenza precisa però vorrei proprio dedicare delle singole puntate a dei libri anche su casi che ho già trattato come la Racella come Serena Mollicone che però magari questo anzi sicuramente questi libri aggiungeranno dei dettagli che non conoscevo che non conoscevamo e ne parliamo insieme magari modifichiamo anche opinioni idee e sensazioni così magari qualcuno poi se lo vuole anche andare a leggere sarà una recensione una discussione vi ricordo di seguirci sui social io ho fatto detox ma adesso sto iniziando a ripostare un pochettino anche su Instagram farò qualche diretta qualche storiella qualche cosa quindi sempre seguiteci anche l'Izza per essere in vacanza ma tornerà presto e partiamo subito con la puntata allora siamo arrivati nella scorsa puntata sul G8 nella prima puntata sul G8 che ha un po' diciamo inquadrato questi tre giorni di Genova a un venerdì a un giovedì anzi abbastanza tranquillo e che è andato anche abbastanza bene come vi dicevo i giornali la mattina del 20 sono quasi un po' increduli sul fatto che tutto si sia svolto senza particolari problemi ci sono stati degli infiltrati nel corteo ma che sono stati allontanati dai manifestanti quindi in realtà la situazione è ottima il 20 invece sarà la giornata che modifica che cambia che stravolge il G8 di Genova è una giornata calda quella di venerdì 20 sia dal punto di vista meteorologico che dal punto di vista dell'atmosfera metaforica che si respira quel giorno c'è una grande manifestazione ci sono varie manifestazioni ma c'è una in particolare c'è il corteo delle tute bianche un corteo che partiva dal Carlini da uno stadio di Genova che avrebbe dovuto percorrere alcuni chilometri non tantissimi e sarebbe dovuto arrivare al confine della zona rossa come già vi avevo detto settimana sì settimana scorsa ma è un mese fa Genova durante il G8 fu divisa in alcune zone zona rossa zona gialla e così via la zona rossa era invalicabile era protetta militarmente anche proprio con delle infrastrutture l'obiettivo del corteo l'obiettivo dichiarato del corteo di Luca Casarini che era appunto il capo diciamo di questo di questo corteo delle tute bianche era quello di arrivare davanti alla zona rossa entrare solo lui ovviamente e di fare poi una breve dichiarazione dentro la zona rossa le cose ovviamente non andranno così ma andranno in maniera molto molto più negativa questa giornata venerdì 20 luglio la giornata vi anticipo già perché anche se avrà una lunga esposizione questa sera la giornata della morte di Carlo Giuliani la giornata dell'attacco ingiustificato barbaro criminale dei carabinieri contro il corteo delle tute bianche la giornata dei black bloc di cui non parleremo oggi ma parleremo nella prossima puntata la giornata dove per citare un famoso testo che io ho letto ma che non mi ritrovo più in nessuna casa e quindi non so esattamente che fine abbia fatto per citare Vittorio Agnoletto capo del Genoa Social Forum la giornata che definisce e che inizia in realtà l'eclissi della democrazia di Genova come diceva Onest International Genova è stata la più grande sospensione dei diritti umani dal dopoguerra ad oggi in Italia anzi in Europa e inizia questa giornata perché questa giornata c'erano vari appunto cortei programmati il più importante ripeto è quello delle tute bianche intanto vi ripeto queste cose in modo che scusate la botta il microfono in modo che vi stiano in testa in modo che nella vostra mente tute bianche Agnoletto Casarini diventino dei nomi Carlo Giuliani diventino dei nomi a cui riuscite a associare un significato la mattina presto non succede nulla ma perché i cortei non iniziavano prestissimo il corteo delle tute bianche iniziava l'una e mezza tanto per capirci dall'altra parte di Genova dall'altra parte un po' più distante diciamo dalla parte centrale in piazza Manin c'era iniziava il la manifestazione ovviamente non violenta che però verrà poi attaccata successivamente dai black block ma di questo parleremo successivamente i black block iniziano verso mezzogiorno a spaccare vetrine a spaccare a dar fuoco ad automobili a prendere di mira i centri del potere secondo loro banche assicurazioni mcdonald's black block ripeto ci sarà poi nella prossima puntata un approfondimento sui black block ma il black block era o è perché è il blocco nero no si parla di solito ci si riferisce al singolare a questo gruppo è un gruppo che nasce sostanzialmente nel nord Europa e mette insieme tutta una serie di ragazzi anarchici anticapitalisti no global un gruppo fluido quindi che non gearchizzato molto difficile da identificare che aveva appunto come si vestivano di neva nei passamontagni nei passamontagni neri quindi completamente a livello proprio iconografico tutti neri e attaccavano velocemente dei singoli obiettivi per esempio i benzinai per esempio appunto le assicurazioni le banche i mcdonald's tendenzialmente non attaccavano materiale privato quindi di cittadini di compagni come li chiamavano loro ma appunto devastavano alcune zone e poi velocemente scappavano quindi Genova si alza con i fumi di alcune auto che appunto colorano il cielo perché i black bloc si stanno dando da fare i cittadini di Genova che non sono in piazza ma che sono in casa che sono barricati in casa ma guardano dalle dai balconi dalle finestre dagli spioncini notano inizialmente qualcosa di strano e di questo abbiamo una presa diretta e ce l'abbiamo come ce l'abbiamo attraverso le registrazioni delle chiamate che fanno al 112 perché i cittadini di Genova si accorgono che questi gruppi di ragazzi molto identificabili li vanno in giro con dei tamburi sono completamente vestiti di nero parlano tra di loro in lingue europee e non solo arrivano iniziano a staccare dei sanpetrini e iniziano a fare un disastro ma la cosa che colpisce particolarmente gli abitanti di Genova è che nessuno interviene addirittura a un certo punto della mattina ovviamente sempre nei tardo da mattinata ora di pranzo un gruppo di poliziotti osserva dei black bloc a circa un centinaio di metri questi black bloc stanno devastando una via stanno dando fuoco alle macchine stanno distruggendo le vetrine e non fanno nulla e quindi gli abitanti di Genova non capiscono cosa sta succedendo esattamente ma non sanno che il peggio deve ancora avvenire e ne avverrà di molto peggio in quella triste giornata del 20 luglio del 2001 quindi da una parte abbiamo i black bloc all'una e mezza circa parte il corteo più importante delle tute bianche è difficile quantificare il numero di persone che sono in questo corteo io ho letto cifre da 30.000 a 50.000 a 100.000 tutti tra l'altro in sentenze libri documentari cioè in fonti che io tendenzialmente riterrei affidabili quindi non ho idea non saprei quantificare diciamo un 50.000 60.000 potrebbe essere qualcosa di verosimile questo corteo era composto in questo modo c'era Luca Casarini e il cosiddetto gruppo di contatto cos'è un gruppo di contatto gruppo di contatto è un gruppo di persone composto da giornalisti e politici che avevano macchine fotografiche e sostanzialmente dei tesserini che li identificavano che stava alla testa del corteo perché appunto per essere da contatto tra le forze dell'ordine tra l'esterno e il corteo questo era un dispositivo di garanzia che serviva al corteo per dichiarare di essere pacifico cioè non si voleva creare uno scontro con la polizia e il gruppo di contatto serviva appunto a garantire queste buone intenzioni ecco come vedremo un gruppo di contatto servirà pochino nel pomeriggio del del 20 il corteo era un corteo appunto di tutte biancole c'erano tante persone in bianco non tutti ovviamente c'erano tante persone che si erano costruite delle armature parodistiche no con quello che trovavano c'erano degli scudi di plexiglass e ma nessuno pensava effettivamente di andare in guerra nonostante il clima di cui abbiamo parlato settimana scorsa quindi nonostante un clima di tensione generale il corteo parte ovviamente è un corteo lento si ferma costantemente ma il corteo inizia a vedere e inizia a passare in dei luoghi che alcuni gruppi di black bloc avevano già distrutto e quindi il corteo si intesisce perché vede macchine bruciate perché vede luoghi devastati perché vede intere piazze che non hanno più san pietrini perché sono stati tutti staccati per essere poi lanciati contro le forze dell'ordine la tensione nel corteo sale intanto a Marassi e al carcere fuori da Marassi e allo stadio ma vicino a Marassi e al carcere di Genova ci sono i primi scontri tra la polizia e il black bloc i black bloc tentano di dar fuoco al carcere di Genova non riescono riescono parzialmente arriva la polizia ci sono i primi scontri come vi dicevo i fumi delle delle vetrine devastate delle autodate in fiamme iniziano ad alzarsi e il clima si scalda sia a livello meteorologico che proprio la tensione che c'è nella 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 manifestazione il corteo avanza e arriva in un punto decisivo ovvero arriva in Viatole Maide Viatole Maide è il turning point cioè il punto fondamentale il punto dove cambia per sempre la storia una parte della storia della Repubblica italiana in una via di Genova è una via molto grande ma che ha che è molto difficile da gestire perché a destra ha un muro sostanzialmente di un cavalcavia quindi non si può scappare a destra e a sinistra tutta una serie di viettine quindi delle parallele molto strette e molto scomode e lungo questo viale questo lungo via c'è appunto questo tutto il corteo delle tute bianche con migliaia e migliaia di persone a un certo punto sono circa le tre quindi è passato un'ora e mezza c'è un momento che definisce quel pomeriggio cosa succede? torniamo indietro di mezz'ora alle 14.29 la centrale radio ordina il comandante Mondelli chi è il comandante Mondelli? il comandante Mondelli è un comandante che quel mattino prende circa 100 uom qualcuno dice 200 qualcuno dice 100 anche qui i plotoni è difficile quantificarli perché erano plotoni creati interamente e unicamente per il G8 quindi non erano dei plotoni che avevano uno storico e molto spesso persone si aggiungevano all'inizio alla fine a metà e quindi è difficile stabilire le dimensioni dei plotoni anche qui in una deposizione in tribunale all'inizio si parla di 100 uomini in un'altra di 50 uomini comunque diciamo tra i 50 i 100 carabinieri a un certo punto gli viene detto di portarsi velocissimamente quindi alle 14 e 29 la sala operativa della polizia di Genova che in quel momento è il fulcro del mondo è l'ombelico del mondo perché è l'organismo che deve coordinare la polizia in quelle giornate così importanti chiama il comandante Mondelli e gli dice di andare il più velocemente possibile in corso Gastaldi perché in corso Gastaldi che era abbastanza vicino in corso Gastaldi i black bloc stavano radendo al suolo una via e quindi giustamente la centrale operativa spedisce il colonnello il comandante Mondelli con ovviamente il suo plotone verso quel luogo primo problema il comandante non è di Genova il comandante non è di Genova non ha nessuno di fianco a lui che conosce la città e quindi prende la via diretta qual è il problema della via diretta che la via diretta incrocia esattamente via Tolemaide cioè la testa avrebbe incrociato esattamente la testa del corteo l'avrebbe incrociato tra via Evrea e via Torino e Corso Torino quindi succede che intorno alle 15 quindi dopo essersi mossi e dopo aver eseguito l'ordine la manifestazione delle tute bianche incrocia il plotone il comandante Mondelli e il comandante Mondelli in maniera inspiegata lui dice scambiando la manifestazione lui ha capito che quelli che doveva fermare erano quelle delle tute bianche decide di attaccare il corteo autorizzato delle tute bianche e quindi parte un lancio di lacrimogeni e parte una carica violentissima della polizia da lì da quel momento sono circa le 3 a questo punto da lì nasce quello che sarà l'inferno di Genova saranno circa tre ore quindi dalle 3 alle 6 in realtà tutto diciamo finisce con la morte di Carlo Giuliani che avviene le 17-27 però diciamo anche i momenti successivi sono momenti di panico di angoscia di paura ecco quella singola decisione insieme alla decisione di cui parliamo tra un po' segna in maniera inequivocabile e in maniera precisa l'indirizzo che prenderà quel pomeriggio e quel G8 l'attacco dei carabinieri contro il corteo ripeto autorizzato oltretutto gli viene chiesto al comandante ma scusi ma lei attacca un corteo autorizzato lui diceva io non sapevo ci fosse il corteo autorizzato questa è stata la risposta ufficiale del corteo delle tute bianche se ne parlava da mesi quindi si sapeva che quel venerdì pomeriggio ci sarebbe stato la manifestazione del corteo delle tute bianche lui non lo sapeva e lo attacca lo attacca violentissimamente i manifestanti reagiscono quindi il gruppo di contatto si scioglie e le persone reagiscono nei modi più disperati alcuni scappano nelle vie intorno chi è davanti e a destra al muro e a sinistra non può scappare contraattacca quindi parte uno dei lanci violentissimi di bottiglie pietre tutti gli oggetti che i manifestanti possono lanciare li lanciano c'è uno scontro durissimo alle 15.22 la centrale che ha ricevuto notizia che il comandante ha sbagliato e attaccato le tute bianche chiama immediatamente il comandante Mondelli e gli impone di andarsene ma ormai c'è il caos lui prende i suoi carabinieri e si trasferiscono a Ovest alle 15.40 i manifestanti che ormai sono incontrollabili perché per tutte quelle vie ormai c'è l'inferno ci sono inseguimenti ci sono camionette dei carabinieri che tentano di schiacciare ci sono i video di questo camionette dei carabinieri che tentano di schiacciare i passanti i passanti parlano di colpi sparati all'altezza uomo alcuni carabinieri poi vi spiegherò perché prendono dei manifestanti li menano dentro delle cantine dentro gli androni dei palazzi dove erano riusciti a nascondersi alle 15.40 dei manifestanti si impadroniscono di una camionetta dei carabinieri e gli danno fuoco anche in maniera simbolica Genova dopo le tre dopo quell'attacco che il comandante Mondelli in maniera scellerata questo possiamo dirlo questo ormai è storia compie anzi più che compie ordina nei confronti dei manifestanti nei confronti delle tute bianche Genova è l'inferno in terra le testimonianze nei vari documentari nei vari libri nei video che ogni luglio escono di testimonianze di chi c'è stato parlano di quei minuti come dell'inferno gente che correva gente insanguinata carabinieri che menavano chiunque gli capitasse a vista ci sono scene ripeto cercatevi poi i video su youtube ci sono scene incredibili fotografi che stanno facendo una foto che vengono menati e gli viene staccata la macchina fotografica distrutta disabili colpiti insomma Genova è l'inferno in terra mi capita spesso di dirlo su questo podcast che una singola situazione per qualche minuto a Genova delle ore è l'inferno in terra mi è capitato di dirlo per esempio nella scuola di Parkland in quei sei minuti in cui Nicola Scruz entra e fa una strage che è l'inferno e Genova è l'inferno è caldo è polveroso c'è un'atmosfera surreale e lì è l'inferno in terra in quel momento alle 17 circa qualche minuto prima il battaglione Sicilia si avvicina a Piazza Limonda Piazza Limonda è di Piazza Gaetano a Limonda diventa che oggi si chiama Piazza Carlo Giuliani perché dove poi fu ucciso dove perse la vita il manifestante Carlo Giuliani ecco questo plotone si avvicina a Piazza Limonda questo è un plotone strano è un plotone di poliziotti speciali non voglio dire altro e a un certo punto verso le 5 passate 5.10 5.20 si avvicinano a Via Caffa che è la via che divide Piazza Limonda da Via Tolemaide quindi è una vietta che divide sostanzialmente la polizia dai manifestanti alle 17.20 circa il comandante Truglia decide anche qua in maniera inspiegabile di aggredire lateralmente il corteo delle tute bianche che in quel momento nelle due ore precedenti era fermo perché tante persone erano scappate c'erano continui scontri quindi il corteo è rimasto sostanzialmente in Via Tolemaide da Via Caffa quindi lateralmente in una traversa di Via Tolemaide c'è una carica violentissima una carica immotivata non programmata e che chi aveva chi la chiamata non aveva il potere di chiamarla ma la carica avviene sono circa 50 carabinieri attaccano con lacrimogeni manganellate è una carica inumana anzi disumana è una carica che è talmente forte che ci fu un processo che è passa la cronaca come il processo dei 25 tanto trovate credo la sentenza online ed è un processo interessante perché vengono riconosciuti 25 ragazzi che davanti a questa carica contraattaccano perché cosa succede? il lato della manifestazione che viene attaccato da Via Caffa e che quindi sostanzialmente hanno davanti dietro hanno le altre persone del corteo dietro hanno il muro e quindi l'unico sbocco l'unica via d'uscita è contraattaccare i carabinieri e quindi in maniera quasi naturale i manifestanti spingono contro i carabinieri che li stanno attaccando e c'è un centinaio di persone circa che contraattaccano i carabinieri i carabinieri iniziano a indietreggiare ci sono due defender due jeep della polizia che indietreggiano e i carabinieri iniziano a indietreggiare di questi ragazzi che contraattaccano verranno identificate 25 persone circa infatti diventa il processo dei 25 questi ragazzi verranno tutti assolti perché i giudici stabiliranno che l'aggressione dei carabinieri è stata talmente violenta talmente ingiustificata e talmente forte che il lancio successivo di pietre bottiglie è stato giustificato chiamato come legittima difesa per farvi capire la violenza di questa aggressione ingiustificata da parte dei carabinieri i manifestanti percorrono via caffa ormai siamo a 50 60 70 persone i carabinieri indietreggiano i due defender si ostacolano facendo manovra e uno dei due rimane bloccato i carabinieri intanto scappano sono indietreggiati sono in un'altra via ci sono circa 200 carabinieri a 100 metri da questi due defender i due defender vengono accerchiati da decine di manifestanti uno alla fine riesce a girarsi e scappa ma un defender rimane bloccato contro un cassonetto e nel far manovra spegne probabilmente il motore dentro questo defender ci sono Mario Placanica Filippo Cavataio e Dario Raffone Mario Placanica ha 20 anni e qualche minuto prima qualche decina di minuti prima di finire nella situazione che gli cambierà la vita in peggio per sempre a lui e a non solo ecco il suo comandante gli aveva tolto il lancio lacrimogeni perché lo vedeva in difficoltà psicologica aveva paura tremava non era più lucido allora lo aveva messo nel defender e ha letto riposati e non fare cazzate Mario Placanica è terrorizzato vede intorno a sé tutti i manifestanti prova a proteggersi con uno scudo ma intorno a persone che gli lanciano di tutto bottiglie sassi estintori il lunotto del defender salta per aria Mario Placanica ha paura è sotto stress è giorni che non dorme tira fuori la pistola e urla andatevene adesso vi ammazzo tutti a un certo punto dal lunotto questo abbiamo ci sono decine di fotografie che lo testimoniano ci sono dei ragazzi intorno tra cui Carlo Giuliani di cui per adesso parliamo e dal lunotto infranto del defender c'è una pistola che esce trasversale Carlo Giuliani vede questa scena perché davanti a lui davanti al lunotto c'è un ragazzo sembra qui siamo solo sulla speculazione ma vi dico quello che ho raccolto Carlo Giuliani urla al ragazzo guarda che c'è una pistola qualcun altro urla c'è una pistola c'è una pistola Carlo quando vede che c'è una pistola raccoglie l'estintore vuoto si sta per avvicinare proprio per lanciarlo contro Placanica sembra quando è a circa 7-8 metri partono due colpi c'è un video che inquadra più o meno la scena ma a un certo punto la telecamera cade e il video è agghiacciante perché mentre noi vedevamo Carlo che stava per raccogliere l'estintore qualcuno dice chiaramente la famiglia e il Genos che c'è il forum dice per difendersi qualcuno invece dice no stava per uccidere voleva attaccare il Mario Placanica ecco la telecamera cade quindi noi abbiamo soltanto l'audio sentiamo due colpi di pistola netti precisi la telecamera torna a inquadrare Carlo Giuliani che è a terra con l'estintore di fianco a lui passa montagna da cui esce del sangue subito dopo aver sparato i due colpi di pistola Davide Raffone riesce a mettere in moto il defender fa una manovra repentina che schiaccia per due volte Carlo Giuliani quindi passa sopra due volte il corpo di Carlo Giuliani e il defender si allontana intorno a Carlo si precipita una donna che tenta di aiutarlo ma nel minuto successivo nei due minuti successivi arrivano decine di poliziotti che liberano la zona e quindi ci sono delle foto che sono delle foto incredibili di poliziotti che accerchiano Carlo Giuliani il corpo di Carlo Giuliani Carlo Giuliani in quel momento probabilmente è già morto ci sono quindi la polizia che nasconde il cadavere alla vista qualcuno prende un sasso e lo posiziona vicino alla testa di Carlo Giuliani perché all'inizio la prima notizia che si sparge è che un manifestante è stato ucciso dal sasso lanciato da un altro manifestante un generale a un certo punto un'ora dopo quando è già arrivata l'ambulanza e quando è già stato dichiarato deceduto Carlo Giuliani quando la notizia è già sparsa ovunque chiama un carabiniere che è davanti al corpo di Carlo Giuliani e gli dice posso rilasciare un comunicato dove diciamo che è stato ucciso da un sasso il carabiniere all'inizio nicchia è un generale cioè che cazzo gli deve dire no e quindi gli dice guardi generale non lo so posso posso e alla fine il carabiniere dice generale lei lo può fare però io sono davanti al corpo e vedo un foro di proiettile il G8 ha fatto il suo primo morto sarà incredibilmente l'unico ci saranno centinaia di feriti alcuni gravi ci saranno migliaia di feriti psicologici che non si sono ancora ripresi tantissime persone mi hanno scritto io c'ero a Genova ma si vede che non ne vogliono parlare perché è stata una roba talmente forte che non ne vogliono più parlare gli scontri continuano non in in viatole maide ma la situazione tende ad appianarsi verso sera anche perché poi c'è il sabato e il sabato come vedremo sarà ancora più assurdo per quanto per quanto mi riguarda rispetto al venerdì Carlo Giuliani chi era? Carlo Giuliani era un ragazzo di Genova che abitava nato a Roma che stava a Genova ragazzo problematico nel senso che aveva avuto alcuni problemi anche con la legge per spaccio ma niente di grave un ragazzo un po' problematico quel giorno questa cosa la voglio dire perché mi ricorda sempre le sliding doors della vita quel giorno lui doveva andare al mare con la narrazione che io sentivo da piccolo su Carlo Giuliani che Carlo Giuliani era un black block e che se l'era cercata questa era la narrazione che io ricordavo di Carlo Giuliani finché mi sono messo a leggere a studiare a voler approfondire il G8 Carlo Giuliani non era innanzitutto un black block e non era neanche uno delle tute bianche in generale nel senso che lui quel giorno voleva andare al mare e infatti sotto la tuta lui nelle varie foto che vediamo di Carlo Giuliani allora nelle prime foto quando è in corteo ha anche una camicia una maglietta che poi si toglie e nelle varie foto che ha che abbiamo di Carlo Giuliani ha un passamontaglia che gli viene dato in manifestazione lui è andato in manifestazione senza neanche il passamontaglia gli viene dato una canottiera bianca dei pantaloni della tuta e sotto ha un costume perché appunto quel giorno lui doveva andare al mare ma poi decide e probabilmente quello è stato uno dei messaggi più belli del G8 di Genova decide che quel movimento che stava nascendo e che stava dando i suoi frutti in un certo senso nella città nella sua città a Genova non poteva lui non poteva mancare doveva andare anche lui ecco credo che mai si sarebbe aspettato che quel giorno sarebbe stato l'ultimo giorno della sua vita io vi dico la verità non so e non mi sento di ritenere Carlo Giuliani come un eroe un martire è entrato poi da una certa parte politica come un eroe da una parte viene visto come un black bloc criminale da una parte come un eroe e io per anni mi sono un po' chiesto da che parte stavo perché sapete mi piace prendere posizione su determinate cose e io devo dire che non riesco invece ad andare oltre al fatto di Carlo Giuliani di ragazzo che voleva andare al mare cioè di ragazzo che aveva vent'anni e che in realtà voleva godersi la vita e mi interessa molto poco metterlo in una categoria no? renderlo all'idolo di una certa appartenenza politica che lotta contro le ingiustizie oppure era un criminale che se l'è cercata non credo che se la sia cercata non credo che sia andato lì a morire o a voler uccidere o far male a nessuno ma non credo neanche che sia l'eroe politico che ogni tanto appunto qualcuno dipinge quindi per ricapitolare venerdì 20 luglio è un disastro d'altra parte a piazza Manin dove c'era la rete Lilliput che manifestava succede a un certo punto nel pomeriggio una cosa interessante c'è la manifestazione della rete Lilliput e di varie suore associazioni cattoliche non solo ci sono anche mi sembra i Cobas comunque la situazione ci sono i video ripeto tutto quello che dico ci sono i video quindi poi andate a cercarveli e la situazione è assolutamente tranquilla la rete Lilliput ha le mani dipinte di bianco molti si siedono fanno vedere le mani dipinte di bianco a un certo punto vedono spuntare in fondo i black block questi ragazzi iniziano a devastare i luoghi appunto che stanno presidiando ma la rete Lilliput poco dopo inizia a vedere i poliziotti si tranquillizzano anzi dicono cazzo meno male vengono qua a proteggerci la polizia in maniera anche qui inspiegabile caricherà la rete e i manifestanti di piazza Lilliput al posto di black block anche qui la versione ufficiale sarà una mancanza di coordinazione tra polizia e centrale operativa e quindi noi dobbiamo farci una domanda è possibile che ci siano stati tre errori così macroscopici uno ha portato alla morte di Carlo Giuliani l'altro ha portato all'attacco alle tutte bianche in via Tolemaide che ha provocato due ore di devastazione scontri feriti e arresti ma mi interessa molto andare a parlare delle intercettazioni che si sentì dei vari messaggi che la centrale operativa mandava ai vari comandanti dei plotoni a un certo punto dicono dobbiamo fare dei fermi questa cosa mi ha colpito perché l'ho sentita più di una volta ascoltando le registrazioni dobbiamo fare dei fermati perché io provo a mettermi nei panni della polizia la polizia cosa dice cazzo qui stanno mettendo a ferro il fuoco la città se non arrestiamo nessuno facciamo la figura degli idioti qui dobbiamo fare dei fermi facciamo dei fermati la polizia però non si avvicina ai black block nella prossima puntata proveremo a capire perché non si avvicina ai black block perché c'è una parte sicuramente in buona fede ma io ritengo che ci sia anche una grossa parte in cattiva fede sul perché non si avvicina ai black block perché nei black block c'erano tanti infiltrati delle varie polizie questo ormai è un dato storico acclarato e i black block avevano anche una funzione di un certo tipo ma ripeto non ne parliamo adesso ed era molto più facile fare fermati e dare esempi e dare esempi su i manifestanti pacifici la rete lì 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 le bianche in inviatore mai qualcuno nei commenti mi ha chiesto ma secondo te c'è un disegno politico o no è facile dire di sì senza prove senza io penso che non ci fosse vi dico proprio come la penso io io non penso che ci fosse un disegno politico io penso che ci fosse una volontà della polizia proprio come corpo come organismo di farsi rispettare e di voler far passare un messaggio forte ai manifestanti e questo messaggio io credo che la polizia avesse tutte le intenzioni di farlo passare con metodi non esattamente da Mahatma Gandhi quindi con dei metodi piuttosto forti sul fatto che il comandante Mondelli dica che non sapesse che c'era una manifestazione organizzata io obiettivamente faccio un po' fatica a crederlo che qualcuno potesse avere interesse che le tutte bianche rimanessero lì io credo che qualche telefonata di qualche politico di spicco possa essere arrivata sicuramente questa non era la giornata decisiva lo diventa poi perché c'è la morte di Carlo Giuliani e perché c'è il pomeriggio di panico io vi invito ad andare a vedere i filmati di quelle camionette dei carabinieri che che passano cercano di passare sopra i manifestanti di quegli agguati dei poliziotti nei confronti dei ragazzi che provavano a scappare cioè davvero un pomeriggio difficile ma la vera manifestazione oceanica si sarebbe dovuta verificare e poi si è verificata il giorno successivo quindi qual era il perché non si voleva far arrivare le tute bianche davanti alla zona rossa questo me lo sono chiesto non ho trovato una risposta definitiva la cercherò ancora in queste in queste settimane poi ovviamente se dovesse dovessi trovare qualcosa di interessante vi faccio un upgrade su questo ma mi sono chiesto qual era la motivazione di impedire a un corte autorizzato di arrivare davanti alla zona rossa e far entrare il loro leader non mi sembra cioè non mi sembra che fosse una minaccia tale da rendere migliore l'ipotesi di aggredire anche perché io l'ho già detto credo nella puntata precedente il fatto che solo Carlo Giuliani sia morto nel G8 in quel pomeriggio in quelle tre ore dalle tre alle sei diciamo dalle due in quel pomeriggio è un miracolo se voi andate a vedere i filmati è un miracolo che sia morto solo Carlo Giuliani che è successo di tutto macchine in fiamme camionette in fiamme risse scontri lanci cioè quindi dico era meglio quella roba lì o era meglio fare arrivare un corteo ripeto autorizzato davanti alla zona rossa che qua mi viene il dubbio perché cosa sarebbe dovuto succedere in un mondo ideale in quel giorno innanzitutto che le forze dell'ordine avrebbero dovuto garantire che i cortei autorizzati sfilassero e che concludessero le loro manifestazioni in maniera pacifica in piazza Manin via tolemaide e via dicendo come stava venendo in più la polizia avrebbe dovuto identificare localizzare fermare anche con la forza i black block questo sarebbe dovuto succedere e i black block signori sapevano benissimo dove erano dove si riunivano e che dormivano in una scuola poco fuori non nella Diaz ma vicino una scuola di Genova sapevano benissimo chi erano i black block allora la domanda fondamentale con cui vi lascio oggi e che poi cercheremo di rispondere nella prossima puntata è perché invece non viene arrestato neanche un black block perché invece non viene neanche colpito un black block perché invece non viene svolta neanche una carica contro i black block e se voi scrivete black block Genova su Youtube trovate dei momenti dei video di di questa situazione in cui i black block con una con una calma serafica con una serenità invidiabile con una pace dei sensi agostina che che tolgono le mattonelle che danno fuoco al benzinaio cioè proprio quasi sapendo che tanto non sarebbero stati affrontati dalla polizia quindi la domanda vera che sorge dal venerdì 20 ovviamente a parte le considerazioni sulla morte di Carlo Giuliani di un ragazzo di 20 anni è perché la polizia attacca i manifestanti pacifici che poi soprattutto in Viatole Maide diventano non più pacifici perché nel momento in cui sono attaccati dalle forze dell'ordine reagiscono perché la polizia non protegge i cortei autorizzati ma li attacca facendo feriti e arresti questo è agli atti e invece non attacca mai i black block questa è la domanda che vi lascio io io vi saluto e vi ringrazio spero che la puntata vi sia piaciuta ce ne sarà un'altra in settimana su sempre su Genova poi credo che parleremo sempre di di Liguria ma con il delitto di Chiavari anche perché mi sa che proprio stasera inizio questo libro di Igor Padruno che mi ispira assai e e quindi poi torneremo diciamo a crimini un pochettino più tradizionali io vi saluto e vi ringrazio continuo su youtube dieci minuti anzi forse qualcosa meno e ci vediamo la prossima sicuramente domenica prossima ci sarà una puntata se riesco faccio anche una puntata in settimana io vi saluto e vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao a tutti